e salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora oggi torniamo a parlare finalmente in maniera più dettagliata di Metal Gear Solid Delta dopo vari trailer di presentazioni infinite discussioni sono emersi i primi dettagli attraverso una demo che mostra uno spezzone di gioco esattamente perché ha giocato il titolo la parte introduttiva che vede Jack o meglio Naked Snake infiltrarsi nell'unione sovietica per recuperare uno scienziato di nome Nikolai Sokolov andando al sodo diciamo che i comandi moderni hanno subito qualche modifica non sottovalutabile che propone una gestione di oggetti e armi un po più rapida e intuitiva permettendo di mirare da dietro le spalle come in uno sparatutto in terza persona e addirittura di cambiare mimetizzazione all'istante da un comodo menu simile a quello degli oggetti senza bisogno di mettere in pausa c'è persino un menu aggiuntivo che attiva la radio più o meno allo stesso modo tuttavia questo non semplifica in alcun modo il titolo non sembrano esserci nuove manovre di cqc insomma in soldoni niente è stato cambiato in maniera troppo profonda gli sviluppatori hanno confermato che le ferite di snake lasceranno dei segni permanenti se vi farete colpire troppe volte ma purtroppo poi la demo e in pratica si chiude proprio al momento della scena tra the boss e il nostro personaggio al ponte quella dove poi cadete praticamente nel vuoto per capirci e quindi questa cosa non insomma insomma non non ne parlano perché appunto la demo finisce lì comparto grafico però di tutto rispetto modelli e vegetazione tutto curatissimo la modellazione dei personaggi primari specialmente quella di the boss è molto ben realizzata e mantiene proprio il sapore di quella originale il sonoro per quanto riguarda il sonoro che chiaramente è molto importante in questo gioco l'iconica voce di david highter è sempre un piacere di tutti ma specialmente quando ripete con incredibile verbo e pezzi delle frasi altrui durante i dialoghi ma ogni interpretazione alla fine resta solidissima e le musiche sono ancora veramente ragazzi top fantastiche non ci sono migliorie dell'intelligenza artificiale dei personaggi dei nemici parlo cosa che avrei onestamente gradito il tutto sembra davvero ben fatto no e va un po a rievocare quel bel effetto nostalgia che sicuramente piacerà molto ai fan accaniti della saga diciamo che per concludere ragazzi prendere questa immensa opera del maestro kojima e farla senza di lui è stato un pochettino azzardato però tutto sommato come vi stavo dicendo hanno fatto quello che definiamo il compitino nel senso non hanno toccato tanto il gioco cioè non l'hanno toccato in maniera profonda in quanto se no avrebbero insomma cioè si sarebbero presi un grosso rischio metal gear infatti è un'opera geniale che è difficilmente riscrivibile e ricordiamoci che il terzo capitolo è tra i più amati della saga e molti fan ne hanno richiesto un ritorno a gran voce e forse potrebbe rappresentare un punto di partenza per il futuro ci piacerebbe tanto magari fatemelo sapere sotto nei commenti un ritorno del maestro kojima sul progetto e detto questo ragazzi il video finisce qui come al solito un video iscrivervi al canale lasciate un bel like o dislike commentate condividete attivate la campanita dei notifichi non perdervi gli altri video supportare il canale vi ricordo che saremmo live anche su tiktok e per sapere quando saremmo live guardate le nostre storie instagram e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti grazie